Il sito web Riza.it è una piattaforma online dedicata al benessere e allo sviluppo personale sotto diversi punti di vista e il sito ha sia punti di forza che punti deboli. Dal punto di vista dei contenuti Riza offre una vasta gamma di articoli, ebook, corsi e consulenze che coprono argomenti come la salute, la nutrizione, lo yoga, la meditazione, l'aromaterapia e molto altro. I contenuti sono scritti da esperti nel settore offrendo informazioni accurate e affidabili. Inoltre il sito offre un'interfaccia semplice e intuitiva che permette agli utenti di navigare facilmente tra le varie sezioni e trovare i contenuti che cercano. Inoltre il design del sito è molto accattivante e piacevole esteticamente, creando un'esperienza di navigazione piacevole per gli utenti. Le ulteriori considerazioni nell'info box di questo video.